Ben trovati dall'ippodromo del Mediterraneo, inizia la seconda giornata del galà internazionale del galoppo. Oggi siamo in attesa di due handicap principali, 1B e 1C, il premio Coppa d'Oro di Siracusa, quinta corsa, abbinata peraltro alla seconda Tris nazionale e ancora la sesta è il premio Sicilia, sul miglio in pista grande per i tre anni, abbinata all'Ippica nazionale. Per quanto riguarda l'inizio, alle ore 14.55 l'apertura affidata al premio Barocco, un handicap discendente sui 1.200 metri in pista sabbia per quattro anni e oltre. Partiti. Meili per un attimo in vantaggio, poi viene sopravvanzata da Gretti Sligo che assume l'iniziativa. In terza posizione, Madame Mascara, poi Capitas Budella, quindi Afkri, con all'interno i Rockets. Si affronta la piegata con Gretti Sligo in vantaggio nei confronti di Madame Maria, al suo interno si mantiene Capitas Budella, poi Meili, i Rockets e Afkri. Si completa la piegata, cavalli che fanno ingresso in dirittura di arrivo, con Gretti Sligo in vantaggio, al suo inseguimento si mantiene Capitas Budella, all'argo Madame Maria, poi Meili, quindi Afkri. Siamo ai 200 finali con Gretti Sligo in vantaggio. Ci prova Capitan Sbudella, Capitan Sbudella e Gretti Sligo in lotta al largo Capitan Sbudella che prova a passare, reagisce Gretti Sligo, Gretti Sligo mantiene la meglio su Capitan Sbudella e Madame Maria. Gretti Sligo riesce a parare l'attacco di Capitan Sbudella, i due finiscono vicinissimi sul palo, all'interno è Gretti Sligo, numero 4 dello schieramento, all'interno Gretti Sligo, all'argo Capitan Sbudella, poi a seguire Madame Maria, numero 5. Tendiamo l'ordino ufficiale, lì nella regia. Ecco, quindi complimenti, dicevo, all'allenatore Sebastiano Fontana, primo e secondo, tra l'altro in testa a testa vibrante, Gretti Sligo per un soffio, però insomma riesce, forse con un pesino minore, a battere Capitan Sbudella. Sì, il peso ce l'ha giudica, giustamente quello è un doppio paio e carico, però ha dimostrato di essere un buon ottimo cavallo. Complimenti. Grazie. La seconda corsa è il premio gotico, doppio chilometro in pista sabbia per i quattro anni e oltre, ancora un handicap discendente con ben nove soggetti al via. Partiti. Partiti. Dall'esterno è Lord Speedy che tende ad assumere il comando, operazione riuscita dopo i primi 100 metri, quindi Lord Speedy si installa al comando, quindi Tu Bezley e Jack Will Go, poi in quarta posizione Lou Biondo con i fianchi Pac Leader, quindi Muffa Re, al suo interno Nomadelfia, quindi Music Boy e Bourbon Club. Si va ad affrontare la piegata di sinistra con Lord Speedy sempre in avanti a fare andatura nei confronti di Jack Will Go, poi Tu Bezley e Lou Biondo, ancora Lord Pac Leader, poi Nomadelfia, quindi Muffa Re, Bourbon Club e Music Boy. Poi si affronta l'addirittura opposta con in vantaggio sempre Lord Speedy nei confronti di Lou Biondo che si profila al suo esterno, quindi Tu Bezley, poi Jack Will Go, ancora Nomadelfia, poi Bourbon Club, Music Boy e Muffa Re, Cavalli che vanno ad affrontare la piegata finale con Lord Speedy sotto la pressione del Lou Biondo, poi a tre lunghezze Tu Bezley, si accelera a questo parziale, in quarta posizione Jack Will Go, lungo la corda prova a risalire anche Bourbon Club, poi Music Boy, cavalli che entrano in addirittura di arrivo, con Lou Biondo che si sposta per linee esterne, quindi a centropista Nomadelfia, poi per linea interna è Bourbon Club che si trascina Music Boy, siamo ai 200 metri finali con Lou Biondo attaccato da Nomadelfia e Bourbon Club, per Varky Music Boy, quindi Tu Bezley passa in vantaggio ora Nomadelfia, quindi Bourbon Club a seguire Music Boy, Nomadelfia è in vantaggio, Nomadelfia attaccata da Music Boy all'interno, Nomadelfia si salva da Music Boy, poi Bourbon Club e Lou Biondo. Nomadelfia Federico Bossa, riescono a salvarsi dall'attacco di Music Boy, che veniva a velocità doppia, Nomadelfia segno per i colori della Jerome, training di Stefano Postiglione, in sella Federico Bossa, 4,39 la quota al totalizzatore, quindi vince Nomadelfia numero 7, e poi Music Boy numero 5, per il terzo rimane in quota Bourbon Club numero 2 dello schieramento, quarto è Lou Biondo numero 6. Attendiamo l'ordine ufficiale, lì nella regia. E diamo lustro a Stefano Postiglione, primo e secondo, sicuramente con Nomadelfia, che era tra i soggetti più attesi, e con Music Boy che vola. Vola. Eh sì, lo stiamo l'altra volta, l'entrata Duane è il cavallo, ovviamente ha pagato e rientro, oggi si è fatto ben valere, ha grandi mezzi questo cavallo, vedo che la prossima sarà molto decisiva. Doppi complimenti. Grazie. La terza corsa è il premio bizantino, mette in scena nove soggetti di quattro anni e oltre, una corsa abbinata all'Ipica nazionale, e un handicap discendente, sui 1700 metri della pista grande. Sta entrando in questo istante Ciumbalicca, partiti. Digo Niente in vantaggio nei confronti di Ciumbalicca, poi tra i primi si porta anche Loverly Earth, quindi Time to Live, a seguire Neon Glitter, poi Martin Blonde, Loverly Earth ora si porta al comando, nei confronti di Digo Niente, quindi a seguire Ciumbalicca, poi Neon Glitter, Time to Live, quindi Martin Blonde, cavalli che vanno ad affrontare la piegata, con in vantaggio Loverly Earth, nei confronti di Verissimo, poi Ciumbalicca, per linee interne Digo Niente, per linee esterne invece Neon Glitter, e Time to Live, quindi Martin Blonde, cavalli ai 250 finali, con verissimo e leggero vantaggio, nei confronti di Ciumbalicca, a largo progredisce Martin Blonde, quindi Martin Blonde passa in vantaggio, nei confronti di Ciumbalicca, poi Digo Niente, ancora verissimo, Martin Blonde in vantaggio, Ciumbalicca ci prova, Martin Blonde si salva dal ritorno di Ciumbalicca, poi Digo Niente, quindi Martin Blonde riesce a vincere, nei confronti di Ciumbalicca, poi Digo Niente, e quindi Martin Blonde riesce a salvarsi dall'attacco di Ciumbalicca, che provava a ritornare lungo la corda. Non teme la perizia, rivendica la qualità e la porta a casa Martin Blonde. Sì, la cavalla, come dicevo prima, il terreno pesante si trasforma in un'altra cavalla, ha dimostrato di vincere bene. La quarta corsa è un'apertissima condizionata, 1.400 metri in pista piccola per quattro anni oltre, il premio Rococo, Ipica nazionale, corrono in dieci, è stato dichiarato non partente il numero 5 di Dutch Brits. Partiti. Geraldine prova ad assumere l'iniziativa, al suo esterno si propone Hot Sun, Hot Sun in vantaggio nei confronti di Geraldine, Leo Salsim con Mon Black, per linea interna St. George Cross, cavalli dopo i primi 250 metri di gara, con Hot Sun in vantaggio, quindi St. George Cross, poi Geraldine per linea esterna, avanza anche Gomet Gray, che ora prende contatto con il battistrada, quindi Hot Sun in leggero vantaggio nei confronti di Gomet Gray, St. George Cross, Leo Salsim, Geraldine, poi Gilak Miffiuken ridosso dei primi, per linea interna Anfiarao, Dynasty Door, cavalli in addirittura di arrivo con St. George Cross in corda, al suo esterno, Gomet Gray, quindi Geraldine, a largo prova ad avanzare anche Leo Salsim, quindi Gilak Miffiuken, cavalli ai 150 finali, con Gilak Miffiuken, che passa in vantaggio all'interno, Common Black, poi Geraldine è passato, Gilak Miffiuken si allunga nel finale, Gilak Miffiuken su Common Black, poi Leo Salsim, Geraldine e via via gli altri. Vince quindi il favorito, Gilak Miffiuken, numero 8 dello schieramento, Valenzale Antonio Cannella per i colori del signor Marco Cuschieri, vince quindi il favorito, Gilak Miffiuken ritorna al successo, 1,32 la quota della scuderia, quindi assegno il favorito, Gilak Miffiuken, nelle confronti di Common Black, poi Leo Salsim e Geraldine, Leo Salsim numero 9, Common Black numero 3, Leo Salsim numero 9, poi Geraldine al quarto posto. E quindi successo per Gilak Miffiuken. Attendiamo l'ordine ufficiale, linea alla regia. E si rompe quest'incantesimo, Killash torna a mostrare tutta la sua qualità. Sì, sicuramente oggi c'è la prima chance, il terreno morbido lui lo gradisce e ce l'ha fatta. Ci hanno raggiunto per la UAE Team Emirates, qui al padiglione, al paddock delle premiazioni, il Paolo Tiralongo, che è l'assistente del direttore sportivo della Team Emirates, e naturalmente il direttore sportivo della ex professionista dal 2012, Marco Marzano, che approfittiamo, ringraziamo per la loro presenza a quell'Ippodromo di Siracusa, in una giornata peraltro per noi importante, accostiamo questo mondo del ciclismo che è venuto a trovarci anche all'interno della realtà, dei vari servizi che l'Ippodromo offre, quali appunto l'Eureka Palace. Voi siete qui da un po' di tempo, ci spiegherete un po' il perché, anche perché la vostra realtà è una grandissima realtà nel mondo del ciclismo. Marco? Sì, innanzitutto buongiorno e grazie della vostra ospitalità, un piacere essere qui per noi. Sì, la nostra squadra è qua per la seconda volta in ritiro, ci stiamo allenando per le prime corse dell'anno, domani inizierà una parte di squadra in Australia, una seconda parte invece vola domani per l'Argentina, e invece noi siamo qui per le prime corse di febbraio e un gruppo andrà anche in Spagna per la preparazione futura del Giro d'Italia. Il vostro gruppo gira intorno anche a un nome importante per la nostra territorialità, che è quello di Saronni. Sì, Giuseppe è il nostro general manager, effettivamente lui, quando Paolo gli ha proposto di venire qua in Sicilia per allenarsi, è subito stato contento dell'idea e ci ha chiesto di organizzare due ritiri e stanno uscendo anche molto bene, il tempo non possiamo chiedere di più, le temperature sono valide, i percorsi anche, e quindi dai, anche il nostro manager è molto contento che siamo qua. La vostra realtà è una realtà ben di 26 atleti provenienti da 13 paesi di tutto il mondo? Sì, diciamo che soprattutto la squadra nasce dalle radici della Lampre, è una squadra storica del mondo del professionismo e dal 2017 si è, diciamo, è cambiato lo sponsor, però diciamo che l'osso è della Lampre. È una squadra che sta diventando sempre più grande, più internazionale, corridori e personale dall'estero e speriamo nel futuro di diventare una delle migliori squadre al mondo. Beh, già i numeri ce li avete tutti, io passo davanti giusto per accostarmi a Paolo Tiralongo. Meglio di questo non si poteva fare ritiri a casa propria, con il proprio bel tempo, quello del sole siciliano e dei territori che poi particolarmente, penso, conosce. Sì, infatti io mi sono impegnato molto per fare in modo che la squadra venisse qui in Sicilia. Poi Giuseppe, anche lui, ha corso qui in queste zone, conosce bene il nostro territorio. a quanto gli ho proposto non ha esitato a dire di sì e niente, questo è il secondo ritiro e siamo contenti sia per come ci ha accolto l'albergo, il posto lo conosco bene io, poi la nostra gente che ama tantissimo il ciclismo, qui ci sono tantissimi cicloamatori e ogni giorno veniamo affiancati per fare una foto o anche scambiare una parola con un professionista. E noi non ci siamo fatti scappare l'occasione. Voi siete due ex professionisti, Paolo ha chiuso la sua carriera a 18 stagioni nel 2017. Cosa resta di queste tre tappe al Giro d'Italia con tante vittorie in carriera? Beh, sicuramente è un bel ricordo vincere tre tappe al Giro è una grande soddisfazione, però diciamo che ormai sono contentissimo della mia carriera ho 18 anni, non è da tutti farli però adesso già mi sono catapultato nella nuova avventura con i miei colleghi e sto cercando di imparare più in fretta possibile la nuova mansione di lavoro. Direttore Marzano ci ritorneremo sopra alla vostra realtà adesso passiamo invece al tondino dove i cavalli già si stanno presentando perché c'è la Coppa d'Oro di Siracusa. La quinta corsa attesissimo l'handicap principale il premio Coppa d'Oro di Siracusa abbinata alla seconda trist nazionale selettiva alla distanza 2300 metri in pista grande da correre tutti di un fiato dai 4 anni e oltre sono 11 al via. Mi è entrato Andy Garcia partiti sono partiti i protagonisti della Coppa d'Oro prova ad andare a fare andatura Vietri quindi in seconda posizione Firun poi Shukal a seguire Cuore del Grago con all'interno Shock in Blue poi Andy Garcia prefield dude a seguire French Alps Cortese quindi mister Anthony Vietri si mantiene sempre saldo leader quando si affronta la piegata di sinistra nei confronti di Firun poi in terza posizione Shukal l'andatura non è trascendentale quando si va ad affrontare la retta opposta con Vietri in vantaggio a graduare nei confronti di Firun e Shukal quindi lungo la corda Shocking Blue poi Cuore del Grago in quinta posizione sesto Andy Garcia settimo lungo la corda è Madame Mascara poi a seguire Playful Dude Cortese French Alps e mister Anthony all'estrema attesa Vietri si mantiene sempre in vantaggio a tre quarti della retta opposta nei confronti di Firun e Shukal quindi in quarta posizione Shocking Blue quindi Cuore del Grago per linea interna risale anche Madame Mascara che si porta sotto i primi nel cuore del gruppo Playful Dude Andy Garcia a seguire French Alps mister Anthony si affronta la curva di fondo con Vietri sempre in vantaggio nei confronti di Firun e Shukal in quarta posizione all'esterno e Shocking Blue quindi Cuore del Grago lungo la corda si mantiene Madame Mascara poi a ridosso dei primi Andy Garcia mister Anthony per linee esterne si entra nel frattempo in retta di arrivo con Vietri sempre in vantaggio al suo esterno Firun quindi Shukal poi per linee ancora esterne Shocking Blue Cuore del Grago Cortese mister Anthony all'argo dello schieramento Cavalli ai 200 finali con Shukal che passa di forza Shukal al centro piste passato in vantaggio poi a seguire Shocking Blue Vietri che rimane in quota lungo la corda avanza anche Playful Dude all'interno è Playful Dude quindi Shukal all'argo Cuore del Grago Cuore del Grago all'argo all'interno Playful Dude Cuore del Grago poi a seguire Firun e andiamo a rivedere le battute finali e quindi Playful Dude con con Cuore del Grago Cuore del Grago all'esterno Quindi Cuore del Grago Playful Dude in linea sul palo Bene al Paddock premiazione per dare lustro al team Alcatore di Canicarao fanno poker di vittorie per la Coppa d'Oro di Siracusa con Fabio Broggi e Federico Boss a completare un team vincente con Cuore del Grago andiamo alle premiazioni nelle mani del nostro Paolo Tiralongo c'è il Gran Premio Coppa d'Oro di Siracusa il miglior fantino del primo classificato lo dà nelle mani di Federico Boss che ha condotto magistralmente Cuore del Grago una battuta Federico anche perché Cuore del Grago è venuto su così inaspettatamente giusto il tempo di galoppo per accaparrarsi questa Coppa ma inaspettatamente non più di tanto perché io ho convinto dei mezzi del cavallo sicuramente l'acqua dei giorni passati l'ha aiutato perché lui come ha fatto vedere quando ha vinto la condizionata ha trovato un terreno soffice sotto i piedi e sicuramente col terreno così più morbido ha fatto la differenza diciamo è stato adrenalinico comunque l'arrivo al fotofinish andiamo con Marco Marzano direttore sportivo della UAE Team che premia l'allenatore Fabio Brozzi e si complimenta con il Team allenatore ci credeva comunque con cuore del Grago ma sì il cavallo è in una condizione spettacolare l'avete anche visto al tondino era bellissimo al tondino è un cavallo che dire come ha detto Federico è un cavallo che quando trova i terreni soffici sicuramente si esalta quindi bene così meglio così allora nelle mani di entrambi Tiralongo e Marzano che vanno a festeggiare quella che è l'Alca Torre di Canicarau riceve la signora latino per una corsa sicuramente inaspettata ma che ha regalato grande gioia a questo team che ripeto per la quarta volta consecutivo ha vinto questa coppa vuole dire qualche cosa dopo quattro vittorie il prossimo anno facciamo la giunguina ok e poi facciamo anche tombola allora bene complimenti ancora a questo team complimenti Vincenzo Schiavone ci ha raggiunto allora il parere tecnico della nostra segretario dicevamo Allegro Ottawa e Celticus Ottawa Cocodrail Allegro e Celticus Celticus e quella del Grago ma è un cavallo dal grande cuore Federico poca andatura nella prima fase poi lungo la piegata finale anzi poco prima della piegata finale il ritmo è aumentato Federico l'ha preso come sa fare lui e l'ha condotto al successo un cavallo che come ha detto Fabio si adatta bene a questi terreni e quindi ha dimostrato tutta la sua qualità un cavallo che gradisce la pista l'ho già dimostrato un ottimo soggetto un cavallo che è sempre in progresso fornisce sempre delle ottime prestazioni anche se ha un po' di carattere però molto bene senza un ferro davanti contro terreno contro terreno quindi un cavallo dal grande cuore poi lo dice anche il suo nome quindi bocca al lupo a tutto il team bene facciamo la foto di Rito se Paolo Tiralongo e Marzano si vogliono accostare raccogliamo l'immagine anche per la stampa che naturalmente darà voce a questa vittoria per la Coppa d'Oro di Siracusa che è la prima dei due handicap di oggi grazie tanti ancora e in bocca al lupo all'Alca Torre fa quattro con le mani l'Alca Torre di Canicarau è giusto così se la merita tutta per cuore del Graco che è corso magistralmente la chiusura del convegno del Galà internazionale del Galoppo è attraverso il premio Sicilia un handicap principale C sul miglio in pista grande ai tre anni legata all'Ippica nazionale non corrono il numero 4 di Siciliano Bello e il numero 13 di Madamento restano 11 al confronto partiti parten il ritardo Dreamstime assume invece l'iniziativa Mr. Tarksien quindi Mr. Tarksien si porta in vantaggio nei confronti di Infinity Dreamer poi a seguire Macio quindi Mr. Tarksien Infinity Dreamer Macio poi in quarta posizione Mr. Gozzo quindi Double Jets si affronta la piegata con Mr. Tarksien in vantaggio nei confronti di Infinity Dreamer quindi Macio da non credere poi per linee interne Mr. Gozzo cavallo in retta di arrivo con Mr. Tarksien in vantaggio al suo esterno ora passa Infinity Dreamer quindi Infinity Dreamer passa di slancio nei confronti di Macio quindi Infinity Dreamer e Macio in lotta passa passa in Infinity Dreamer nei confronti di Macio a largo avanza anche Charming Girl Infinity Dreamer Charming Girl a largo e Charming Girl che progredisce Charming Girl leggero vantaggio ci prova ancora Infinity Dreamer poi Ormixa Charming Girl vola Charming Girl ritorna al successo Charming Girl poi a seguire Infinity Dreamer Ormixa Charming Girl numero 10 dello schieramento Charming Girl che riesce a vincere Mario Sanna poi Infinity Dreamer al secondo posto quindi al terzo Ormixa poi via lì agli altri quindi successo per Charming Girl per il colore della signora Bosco training del signore in pelluso in sella Mario Sanna Charming Girl ritorna al successo sul tracciato attendiamo l'ordine ufficiale linea alla regia Ravasi foto di consegna della coppa insieme con Niemic sono i due ciclisti ospiti oggi qui naturalmente all'allenatore Claudio in pelluso per Charming Girl ci rivediamo Scuderia Bosco penso sarete contenti anche per questa ulteriore vittoria manca il Fantino che invece aveva il voto ritira poi anche la Scuderia allora premiamo subito il proprietario premiamo il proprietario con la Scuderia Bosco ricevono dalle mani di Ravasi e Niemic ancora una volta una coppa meritatissima anche per Charming Girl peso eccezionale la formazione e il terreno pure il terreno è stato favorevole anche a lei la forma andava bene la cavalla ha corso bene e ha vinto perché è buona insomma inizia bene l'anno si era concluso bene inizia bene l'anno speriamo che si continua così poi tutto si vedrà in bocca al lupo in bocca al lupo raccogliamo anche la coppa Robertina la prenderai tu la dovrai dare al fantino di Charming Girl Mario San ancora una volta Niemic e la foto di Rito la facciamo tutti insieme mettiamoci tutti insieme per la foto che andrà poi a raccontare alla stampa questi momenti Dottor Concetto Mazzarella io la blocco un attimo se mi raggiunge giusto perché si conclude il periodo più importante dell'ippodromo proprio con il galà internazionale del galoppo si conclude questa felice parentesi ma se ne apre un'altra che credo che mi auguro che sia abbastanza importante e felice purtroppo ci sono delle incertezze ancora che sono legate alla gestione dell'ippica a livello nazionale non è ancora uscito il calendario di febbraio si attende la valutazione degli ipodromi le solite incertezze di avvio dell'anno ma sono convinto che comunque l'ippodromo di Siracusa come sempre andrà avanti progredirà e faremo sicuramente un 2018 che auguriamo un miliardo del 2017 peraltro la passione per l'ippica rimane sempre la stessa è podromo grimito anche oggi un ipodromo che peraltro è ospitato anche per i suoi vari servizi che offre una squadra importante come l'UAE Team Emirates oggi sono stati anche qui con la premiazione questo vuol dire che è un ipodromo comunque sempre aperto sicuramente noi abbiamo una struttura polivalente che vediamo di utilizzare al meglio è una scommessa che speriamo di aver vinto anzi siamo certi di aver vinto e ci auguriamo che il 2018 dopo l'insediamento del nuovo Parlamento e del nuovo Governo possa dare delle risposte utili all'ippica perché al settore ippico perché penso che da qua ai prossimi mesi non c'è da aspettarsi molto perché c'è un embass c'è un fermo ecco vediamo che cosa ci riserverà il nuovo Parlamento bene attendendo allora diamo la conclusione concludiamo proprio ricordandovi che la Coppa d'Oro di Siracusa è andata come vittoria al numero cinque di Cuore del Grago per la quarta volta consecutiva all'Alcatore di Canicarau e invece la scuderia Bosco con Claudio Impelluso e Mario Sanna fanno suo il premio Sicilia per Shalmin Gerle e naturalmente le corse all'ippodomo del Mediterraneo ritorneranno ancora nel mese di gennaio per gli altri due sabati arrivederci a presto